Ben trovati al nostro consueto appuntamento con Tech Magazine dal polo tecnologico lucchese, storie di persone, di imprese e di innovazioni. Oggi siamo qui con un amico, un amico che posso presentare come esperto di innovazione, come imprenditore, ma oggi mi fa piacere presentare soprattutto come organizzatore di un festival, un festival che si terrà a maggio, Immagina Festival. A che edizione siamo quest'anno, Arnaldo? Seconda edizione. Seconda edizione, ma non siamo qui per parlare di Immagina Festival, perché con Arnaldo vorremmo affrontare un altro tema. Come sapete, ultimamente abbiamo spesso invitato esponenti del mondo della cultura, abbiamo parlato di musica e innovazione, abbiamo parlato di fotografia e innovazione. E volevamo affrontare con Arnaldo, che come dicevo è un esperto di comunicazione, il tema proprio della narrazione. Noi oggi spesso sentiamo parlare di storytelling, riferito spesso anche alle imprese. Quindi volevamo un po' chiarire con Arnaldo questo concetto, sapere lui come la pensa, come la vede, come è nato, se ci racconta qualcosa a proposito di questa nuova tendenza. È molto affascinante parlare di storie nell'ambito delle imprese, del business, anche all'interno di questo contesto, perché quando pensiamo alle storie immaginiamo subito un contesto dell'infanzia, delle favole. Ma è davvero curioso riuscire a rispondere alla tua domanda attraverso un percorso un po' grande, più grande di noi. Ho bisogno di due ingredienti. Allora, il primo ingrediente che mi serve è capire qual è il soggetto della storia di cui voglio parlarvi. E il primo soggetto è una cosa che tiene insieme me e te, ma tutti i telespettatori, ed è il fatto di essere tutti quanti degli Homo sapiens. Ma anche io? È incontrovertibile. A scuola non me ne era accorto. Il secondo elemento invece è il tempo. Dobbiamo riuscire a tornare indietro nel tempo fino a 70.000 anni fa, un numero esagerato. Però è un momento in cui l'Homo sapiens viveva principalmente nella zona africana, non aveva ancora il dominio come oggi su tutto quello che è l'aria, il cielo, la terra, era il dominio anche della piramide alimentare, era un essere che viveva insieme a tutti gli altri esseri del pianeta. Cosa succede? Quando pensiamo a come mai noi siamo diventati così importanti all'interno del nostro sistema, probabilmente ci viene in mente il fatto che siamo in grado di comunicare, di parlare tra di noi. Viene in mente anche il pollice opponibile. Certo. Ma basta? Non basta perché già vediamo anche i primati che tuttora esistono e che utilizzano questi sistemi. Quindi l'idea di comunicare sembra una delle cose più affascinanti, utilizzare così tante parole per descrivere così tante cose. Eppure oggi siamo sicuri che anche gli animali tra loro comunicano, anche le piante tra loro comunicano. Pensa che sono riusciti ad estrapolare il verso che alcune scimmie fanno per dichiarare che sta arrivando un leone. Appena fanno questo verso tutte scappano. E questo ce la dice lunga sulla capacità di descrivere la realtà. E questo è un elemento che non è così distinguibile per noi umani. Cioè anche noi raccontiamo della realtà, ma succede qualcosa 70 mila anni fa. Quello che viene chiamata la rivoluzione cognitiva. È tutta una serie di eventi che adesso non stiamo a trattare, ma che porta l'uomo ad essere in grado di parlare di qualcosa che non esiste. E quindi si introduce la narrazione di fantasia. Esatto, cioè abbiamo incominciato a credere a delle cose che sono i miti, le leggende, a parlare di cose che nessuno ha mai visto, nessuno ha mai sentito. E quella scimmia che chiamava le altre per avvisarle del leone, per l'uomo sapiens si trasforma in il leone è un presagio. Mi vuole raccontare che forse la mia popolazione è ben vista oppure è in una situazione di difficoltà. Si sono incominciate a raccontare storie. E quindi raccontare storie oggi affonda le radici in un passato così remoto, così lontano. Quindi quando parliamo di una storia di un imprenditore, di una storia di un'innovazione, stiamo facendo un'operazione che abbiamo iniziato culturalmente a fare quando l'evoluzione ci ha consentito di chiamarci homo sapiens. Sì, perché il punto essenziale della narrazione è che siamo stati in grado di mettere insieme degli sconosciuti, coalizzarli insieme tra di loro per realizzare qualcosa. Mentre nelle specie animali poter far entrare un nuovo soggetto all'interno della comunità richiede fiducia, conoscenza, rapporto prolungato, è sufficiente per noi avere una bandiera, un simbolo, un'icona per riconoscerci in qualcosa di più grande e metterci insieme per raggiungere questo obiettivo. Pensa alle nazioni, alle aziende, alle guerre, nel bene e nel male. Sono concetti a volte intangibili, perché quando si parla di una nazione non si tocca niente, si parla di un'impresa non si tocca niente, ma la si può raccontare come una storia che spesso ci appassiona. Viene in mente anche produzioni televisive su Piaggio, su Olivetti, hanno fatto della narrazione dell'impresa un elemento di valore aggiunto, di conoscenza e diffusione di un'attività imprenditoriale che ci sembrerebbe limitata al mondo dell'economia. Infatti per sintetizzare il tutto potremmo dire che siamo esseri forgiati sulle storie e tutt'oggi le adoperiamo per convivere insieme. Arnaldo, io ti ringrazio di questa brevissima, concentratissima storia che ci hai raccontato e ci vediamo noi tutti i giorni con gli spettatori e speriamo a maggio al Festival Immagina. Ti ringrazio. Grazie a voi. Arrivederci.